Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come visualizzare tutte le cartelle, tutti i file sul nostro computer, sistema operativo Windows 10 o 11 quindi in questo caso andiamo direttamente su esplora file, quindi opzioni esplora file, explorer file, opzioni esplora file andiamo direttamente su generale, come puoi vedere qui ci sono tutte le opzioni che possiamo scegliere e modificare così le nostre cartelle come puoi vedere mostra file usati recente, mostra cartelle usate di frequente, mostra i file da office.com visualizzazione ed ecco la parte più importante, visualizza cartelle, file e unità nascoste quindi in questo caso se ti ritrovi su questo pc cartelle, pochissime cartelle, vuol dire che le altre cartelle sono nascoste quindi metti la spunta qua sopra scendiamo fino a giù, fino a trovare, mostra descrizione rapida della cartella degli oggetti del desktop mostra gestori, mostra le notifiche, mostra lettere di unità nascondi conflitti, unione, cartelle facciamo applica, scendiamo fino a giù ed ecco anche la parte più importante nascondi file protetti di sistema che è consigliato protetti di sistema, tolgo questo faccio applica scendo fino a giù nascondi unità vuote, nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti toglia spunta qua, mostra questo perci, mostra raccolte faccio applica e basta, mostra tutte le cartelle, fai applica e fai ok se non dovesse funzionare riavvia il tuo computer quindi grazie a tutti per questa visione iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao